Ciao, qui Danilo Maruca di Diritto alla Meta.it. Oggi ho il piacere di intervistare Serena Fumaria, mental coach che condividerà consigli, strategie e tecniche di crescita personale che puoi applicare fin da subito per migliorare la qualità della tua vita. Ciao Serena, grazie per aver accettato questa intervista e per quelli che non ti conoscono racconta un po' la tua storia e di cosa ti occupi. Ciao a tutti, sono Serena Fumaria, sono mental coach specializzata in life, love e business coach. Il mio lavoro nasce da un'esigenza personale, ho avuto degli abusi narcisistici e quando fu decisi di aiutare alcune persone a uscire dalla stessa mia impasse e questa cosa è diventata piano piano un'opera di missione personale, ho aperto una pagina su Facebook, questo è successo nel 2015-2016, che lavoravo in maniera gratuita per queste persone e ho fatto un supporto per quasi tre anni. Dopodiché ho chiesto collaborazione a una persona, ho aperto un'associazione culturale che ancora oggi è attivissima e crea e dà un appoggio psicologico gratuito e degli aiuti in vari punti di vista alle persone che hanno bisogno di essere sostenute o sostenute dopo un abuso psicologico o una violenza psicologica. Dopodiché ho deciso di lasciare il mio vecchio lavoro, mi occupavo di business strategist e di lavorare solo ed esclusivamente come mental coach in sessioni personali nei confronti delle persone che hanno bisogno per sostenere i loro problemi e soprattutto per migliorare il loro stato di vita, per arrivare agli obiettivi e quindi vivere una vita felice. Capisco, questa è una cosa che ti fa onore perché tu hai vissuto delle difficoltà in prima persona e adesso non vuoi che altre persone vivino le stesse cose e quindi le aiuti e le supporti. Passiamo alla domanda numero 2. Su Dritto alla Meta mi focalizzo molto sul tema della felicità. Qual è per te la strategia da seguire per tutte le persone che vogliono diventare più felici? Per essere felici bisogna prima di tutto scegliere di esserlo. C'è un brano che Benigni cita che dice per essere felici bisogna soffrire. Questo sembra strano ma in realtà per essere felici bisogna smettere di vivere nella zona di comfort e per uscire dalla zona di comfort bisogna avere un po' di paura e un po' di coraggio da poter utilizzare per poterlo fare. Quindi in realtà la sofferenza di cui si parla è proprio questo staccarsi dall'abitudine per andare verso la felicità. Una delle cose che bisogna fare per essere felici è smettere di pensare di scappare da qualcosa. Quindi smettere di dire me ne voglio andare da questo posto di lavoro. Ma iniziare a dire voglio fare un'altra attività, quindi pensare all'andare verso qualcosa di positivo e non dallo scappare da qualcosa. La felicità è uno stile di vita, è un modo di vivere. Non si può essere felici 24 ore al giorno ma si può essere felici per molte ore nella giornata. Il resto io consiglio di passarlo a programmarla questa felicità. Serena, quello che hai detto sulla zona di comfort è assolutamente vero perché è ciò che spesso impedisce alla maggior parte delle persone di raggiungere i propri obiettivi. Ti faccio un'altra domanda. So che ci tieni molto ad aiutare le persone che sono state vittime di qualsiasi tipo di abuso sia esso fisico che psicologico. Quali consigli vuoi dare al riguardo? Alle persone che hanno subito questo tipo di abuso posso dare questo consiglio. mai fermarsi, mai pensare indietro ma guardare sempre avanti e soprattutto guardare adesso. Tutte le persone che hanno subito abusi o che hanno avuto violenze ovviamente hanno avuto dei traumi che probabilmente rimarranno nel loro modo di essere ma non per questo le renderà persone peggiori. Anzi spesse volte diventeranno persone migliori con più forza e soprattutto con più rispetto di loro stesse perché purtroppo il trauma comporta anche la comprensione dello stesso e di conseguenza la crescita personale necessaria per vivere bene ed essere persone felici. Purtroppo capita tutti i giorni di poter subire anche dei piccoli traumi psicologici o anche di avere a che fare con persone violente ma questo non vuol dire se ci è successo che domani non possa essere un giorno migliore rispetto a oggi e l'obiettivo è vivere bene il presente in direzione del futuro. Quello che hai detto si collega perfettamente alla domanda che voglio farti. C'è un'affermazione di Napoleon Hill che afferma che in ogni difficoltà c'è il seme di un beneficio equivalente. Tu cosa pensi di questa affermazione di Napoleon Hill e soprattutto in che modo affronti le difficoltà? Sempre tornando al discorso che dicevo sopra ovviamente la difficoltà è il seme del cambiamento. Se io non avessi avuto le difficoltà che ho avuto probabilmente sarei rimasta a fare il tipo di lavoro che svolgevo e oggi non sarei la persona felice, più felice che sono oggi e soprattutto non farei il bene che adoro fare con questo entusiasmo. Quindi la difficoltà in realtà spesse volte è semplicemente un obiettivo da puntare come cambiamento. Mi spiego, se io mi provoco in mente la possibilità di avere una difficoltà, se io mi identifico nella difficoltà e la comprendo la difficoltà, lei per prima diventa un obiettivo di cambiamento. Ecco perché credo che la difficoltà spesso sia proprio alla base del successo delle persone. Sono d'accordo con te Serena perché anch'io nella mia esperienza ho vissuto diverse difficoltà che non sono state belle da vivere ma mi sono state veramente utili perché ho imparato tantissime cose che altrimenti non avrei mai potuto imparare. Ti faccio un'altra domanda. Nel campo della crescita personale ci sono tantissime tecniche e strategie diverse. Qual è quella strategia, quella tecnica che consigli alla persona che vuole cambiare in meglio la propria vita? Nella crescita personale ci sono tantissime strategie per migliorare se stessi a partire dalla psicanalisi, arrivare al coaching, arrivare al counseling ma anche la stessa meditazione, il mindfulness. Tutto quello che una persona può amare, anche soltanto lo studio, la lettura e la crescita personale personalizzata servono per creare una versione di se stessi che può essere migliore domani rispetto a quella che è oggi. Io credo che ogni forma di crescita personale possa essere adatta a ogni persona, nel senso che ogni persona ha la sua, quindi c'è una persona per la quale il coaching è perfetto, ci sono persone per le quali il coaching non può andar bene. Quindi prima di tutto analizzando se stessi si può capire quale può essere la crescita personale più adatta per se stessi. Nel mio caso sono un coach ma ammetto che posso, che in tanti casi alcune persone che vengono da me le consiglio di essere affiancate anche da persone di base psicologica, quindi di fare un percorso di psicanalisi o essere sostenuti da percorsi di meditazione ad esempio. Perfetto. Serena, nel tuo canale YouTube, e consiglio a tutti di andare a visitarlo se già non lo conoscete, trovate il link nella descrizione di questo video, nel tuo canale YouTube ci sono tantissime strategie pratiche che consigli alle persone che vogliono migliorare la propria autostima ma soprattutto vogliono imparare ad amare se stesse. Qual è una di queste strategie che ti piacciono, che funzionano e che una persona può applicare fin da subito per imparare ad amare se stessa, che vuoi condividere con noi? Ci sono sì tante 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 strategie per fare felici le persone, per vederle brillare. Prima di tutto pensare a se stessi. Voi direte, questa mi sta proponendo di diventare goriferito. No, vi sto semplicemente proponendo di interrogarvi su quello che veramente desiderate. Soprattutto chiedetevi, state vivendo veramente la vita che desiderate? Quello che state vivendo oggigiorno, la relazione che avete, la persona con cui state, il tipo di lavoro che avete davanti a voi, o la città dove vivete, il tipo di studio che state facendo, lo stipendio che state prendendo, è quello che vi aspettate da voi stessi? Questa, per esempio, è la prima domanda importante che dovremmo fare per andare verso la nostra nuova dimensione. Se non ci facciamo domande se viviamo nella zona di comfort, ovviamente questo sarà molto complicato. Ovviamente ci sono tante strategie per arrivare agli obiettivi. Prima su tutto, ovviamente, che mi riguarda, è il coaching. Ma ce ne sono veramente tantissime, alcune delle quali sono molto molto più semplici di quello che voi pensiate. Serena, per tutte quelle persone che hanno un narcisista al loro fianco, cosa gli consigli di fare? Avere un narcisista a fianco non è una cosa molto complessa o difficile, anzi, può succedere. Può succedere a tutti di avere un narcisista accanto. E questa cosa, purtroppo, può provocare non poche difficoltà. È una cosa che capita a scuola, sul posto di lavoro, in famiglia, nel rapporto sentimentale, tra gli amici. Che cosa bisogna fare? Prima di tutto, identificarli. E secondo di tutto, chiedersi perché si resta nella situazione di sofferenza. I narcisisti, vi ricordo, che sono esseri umani esattamente tanto quanto lo siamo noi. Con delle caratteristiche personali e con delle problematiche che noi, empatici, forse non abbiamo. Ma non per questo non sono persone. Quindi, come tali, devono essere trattate e bisogna imparare a trattarle. E in che modo si tratta un narcisista? Ovviamente, a seconda dei casi, ci sono diversi tipi di modo per trattarli. Ovviamente, si vanno ad aiutare le persone che vivono con i narcisisti tutti i giorni, come i figli o mogli, i mariti, che devono rimanere comunque nel rapporto narcisistico, in un determinato modo, così come si consiglia invece alle persone che possono evitare di avere a che fare con loro tutti i giorni, di allentare il rapporto. Spesse volte siamo veramente abusati da narcisisti, ce ne rendiamo conto, ma noi per primi non sappiamo come uscire dalla situazione e rimaniamo lì. La prima cosa da fare è non farsi uccidere le energie e soprattutto allontanarsi lentamente dal rapporto per capire e valutare se si può fare a meno di quella persona e se, qualora non si dovesse riuscire a farne a meno, vi consiglio di contattare una persona per essere sostenuti. Per tutte quelle persone che invece hanno appena concluso una relazione, quale strategia e gli consigli per ripartire subito? Alla fine di ogni rapporto narcisistico si consiglia il no contact o zero contact, a seconda di come lo volete chiamare, che sarebbe ovviamente qualora possibile, se non ci sono figli di mezzo, eccetera, eccetera, che è la prima cosa da fare, cioè ripartire da sé e chiudere i rapporti per un periodo nei confronti di questa persona che ovviamente vi ha reso esangui e vi ha asciugato tutte le vostre energie e tutta la voglia di vivere che ci può essere all'interno di un rapporto. Quindi per ripartire prima di tutto io consiglio un distacco emotivo nei confronti della persona che si può fare con una crescita personale, con il coaching, con il lavoro che svolgo io per esempio, ma anche con uno psicologo, uno psichiatra o quello che voi credete più opportuno per il vostro caso, perché che non posso certo sapere generalizzando, ma prima ancora cercare un distacco totale nei confronti della persona, qualora possibile. Qualora non fosse possibile, che ovviamente ci sono dei figli di mezzo, ci sono dei metodi tra cui il più noto viene chiamato The Greystone, cioè il sasso grigio, che potete trovare su tutti i video di YouTube, tra cui anche i miei. Serena, so che hai scritto due libri, parlacene brevemente e parlaci anche un po' di quali sono i progetti alla quale stai lavorando e a cui tieni di più. Permetto che per chi è interessato trovate il link di uno di questi due libri all'interno della descrizione di questo video. Ho scritto due libri, il primo nel 2013, è la storia di una ragazza che si chiama Alice, che si innamora ovviamente di un narcisista patologico, e è molto divertente. Ci sono degli aneddoti che purtroppo sono comunissimi e ha vinto un premio letterario nel 2018. Invece il secondo libro, che ho scritto a quattro mani con Walter Giraudo, è invece un libro di metodo, che si intitola Cambiare consapevolmente si può e che aiuta le persone a scegliere un cambiamento consapevole. Quindi il primo libro si chiama Diario di una hostess, il secondo si chiama Cambiare consapevolmente si può e li trovate entrambi sia nelle librerie che sull'online. Le altre cose che amo moltissimo fare è ovviamente la mia associazione culturale, completamente benefica, che dona eventi e sostegno, oltretutto doniamo un sostegno gratuito che le persone possono ricevere direttamente mandando una mail alla mail dedicata. e oltretutto adesso abbiamo un progetto radiofonico su una radio che poi a breve saprete quale sarà, su cui si parlerà proprio di narcisismo patologico perverso. L'obiettivo, il mio obiettivo non è soltanto avere un rapporto diretto con le persone, quindi professionale con le persone, ma soprattutto avere un rapporto nei confronti di questa materia che possa essere gratuito, che possa permettere, come nei video di YouTube, di creare un valore che possa essere di utilizzo pubblico e soprattutto che possa dare un sostegno a quelle persone che non sanno dove sono e non riescono a capire la situazione in cui sono. prossimamente avrò una cattedra all'università per dei master di formazione, di alta formazione professionale, mi sono state fatte delle proposte che ovviamente con piacere accoglierò perché ogni volta che una persona parla di questo argomento in maniera consapevole a qualcun altro e non sto parlando di me, sto parlando anche dei miei stessi ascoltatori, si salva l'anima e la vita delle persone che possono soffrire tantissimo fino ad arrivare a essere anche picchiate da determinate persone, quindi la violenza va prevenuta con la conoscenza. Serena, siamo arrivati alla conclusione di questa intervista, ti ringrazio per tutti i consigli che hai dato, ti ringrazio per aver accettato questa intervista e prima di salutarci, qual è l'ultimo consiglio che puoi dare a chi ci sta ascoltando? Assolutamente sì, la vita è una cosa meravigliosa e non dovete permettere mai a nessuno di farvi dimenticare di questa cosa, la vita vi appartiene e senza voi la vostra vita non avrebbe senso, quindi la vostra coscienza e la vostra cognizione di chi siete veramente non solo rende felice voi ma renderà felice tutte le persone intorno a voi che meritano il vostro amore, quindi imparate a selezionare le persone che avete accanto ma soprattutto imparate ad amarvi e a chiedervi che cosa posso fare per rendermi veramente felice. Vi auguro una buona giornata e grazie a tutti. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.